E che il mondo con noi gira, non lo puoi negare mai, e seppure sarai lontano di me. Ricorda che puoi vivere di me, e tutto viene giù, quando ti cerco e non ci sei, e capirai che forse gli angeli, sono tutte rondini che vivono. E ritorna a Vigevano, Leo Gasman, eccolo qui accanto a me, al Teatro Odeon di Vigevano. Ciao Leo, benvenuti, abbiamo ritornato a Vigevano. Grazie, è un piacere essere qua. Perché so che hai dei legami affettivi e anche delle conoscenze. Sì, sì, sono un po' di amici che abitano da queste parti, sono molto felice di essere qui oggi per una causa importante. È una causa importante perché è anche dovuta in beneficenza, tu sei una persona di cuore e questa sera ci farai sentire non solo le tue canzoni, ma anche qualcos'altro. Beh, qualcos'altro no, perché so che tu sei un attore, abbiamo appena visto la tua fiction in televisione con Califano. Sì, 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 sì. No, sì, diciamo, sì, stasera porterò le mie canzoni e cercherò di, insomma, di raccontare la mia musica, di raccontare il mio progetto e di stare insieme alle persone che si immedesimano in quello che scrivo e canto. E niente, penso che sia importante, sono felice che ci sia tanta gente stasera che voglia far del bene. Siamo tutti uniti in questo, siamo tutti una grande famiglia. Abbiamo visto anche tanti tuoi fans che sono già arrivati, un messaggio che vuoi dedicare a questi giovani con la tua musica, perché è una musica giovane. Sì, che li voglio bene, che sono la mia forza e che vorrei, insomma, vorrei trovare un modo, più modi per ringraziarli per tutto l'amore che mi danno, perché, insomma, sono una bella parte di me. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Un'avventura da vivere Sarà, 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 un'avventura da vivere Regniti con me Oltre l'America, oltre la fantasia, oltre la gravità, come una sinfonia Grazie a voi. 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 Grazie a voi.